Questo pomeriggio presso la sala stampa del Palabarbuto è stato presentato ufficialmente alla stampa all'ala pivò Christian Barnes ex Brescia che domenica esordirà nella Gemi Napoli Basket in gara 1 contro la pallacanestro Pistoia alle ore 18 al Palabarbuto. Queste le parole di coach Pino Sacripanti sull'arrivo di Barnes e anche sul primo match dei playoff con Pistoia. Credo che l'aggiunta di Christian Barnes sia un segnale che l'ho scattato, di cui ringrazio la proprietà perché vogliamo provare ad arrivare al meglio possibile ai playoff. Innanzitutto per i valori del giocatore ma soprattutto anche per la possibilità di infortunio che ogni tanto tocca la squadra. Ci tocca Pistoia, onestamente non ho tanto da dire su Pistoia, nel senso che stiamo cominciando a lavorare adesso. L'abbiamo già incontrata due volte, sappiamo che ha grande fisicità, soprattutto sul perimetro. È una squadra molto ostica, anche sui cambi difensivi. Ci sarà da lavorare tutta settimana per arrivare pronti. Questa è la nostra vera finale per andare avanti. Questo è il saluto di Christian Barnes ai tifosi e in particolare ai telespettatori di Pianeta Basket TV. Ciao ragazzi, voglio dire che sono molto felice di essere qui in Napoli e anche di sentire che questo club è in un missione di vincere la Borsa Serie A. Salute a Pianeta Basket TV, io Christian Barnes. Salute a Pianeta Basket TV, io Christian Barnes.